che stai facendo stiamo tornati ma what sono quasi libero cavolo sta scappando abbiamo la voltoio qua tra l'altro anche il controller che sta scaricando ci siamo ritrovati ultimamente ho pensato tanto a questo can che non mi interessa molto di lui cioè siamo in questo misterioso centro state lontani vi avverto aspetta vogliamo solo una volta ve l'avevo detto cosa sta succedendo comunque bentornati bella ragazzi e quando iscrivetevi al canale non so ma voltoio boh ragazzi non so cosa sta succedendo ma ragazzi no devo fare così no no ragazzi è più difficile sono quasi libero ci servono risposte non possiamo farlo scappare non no questo non è giusto perché tanta fretta no dove no ecco non l'ho preso no 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 che stai facendo aspetta vogliamo solo un ortografo ragazzi ragazzi è più difficile di quanto pensassi ma dov'è non 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 così in fretta ragazzi abbiamo colpito ah è così che lo colpiamo questo questo lo rallenterà spero dannazione non mi prenderete mai sciocchi ragnetti ragazzi abbiamo già sorto un bel po' della vita ora che abbiamo capito come si fa da anno smettetela non la smetteremo amico no ma non 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 E' impossibile E poi con la mano Fa freschino qui eh Diciamo molto freddo Guarda non ne becco neanche uno Quasi preso Non avrei mai previsto di fare una cosa del genere oggi Guarda Sconfitto Che è? Guarda Cos'è? Così si fa Dannazione Non ci credo Dov'è quel goblin infernale? E' il momento di tornare al nido Nooo Vi state avvicinando un po' troppo Per quel che mi riguarda E' il goblin del futuro Vai ragazzi Eh si Sono più forte di quello che sembro Sembra funzionare Alla prossima Perfetti Ah eppure ti ho colpito Sembra ragazzi Questo Kang Abbia davvero Invertito le rotte Del futuro Del futuro Del passato Eh si Ehi attento con quelle cose Non avrei mai previsto di fare una cosa del genere oggi Già Ho passato molti giorni così Dunque ultimamente ho pensato tanto a questo Kang Questo lascerà il segno Ai Creed Dai Così non va bene Fammi tornare qua Grazie eh Grazie mille Qui eh Diciamo molto freddo Che bello L'abbiamo catturato la cara però Mi chieda fermo Ma cosa gli fai ragazzi qui Cioè What Goblin dal futuro Cavaliari dal passato Ma che succede? Meglio tornare indietro Wasp Li vedi anche tu Sì Sembra arrivino da una sorta di grande Ne rilevo un altro Che cosa ci fa? Lo ho ammanato Il resto degli Avengers Deve scoprire perché Kang Ci ha portati qui Per fortuna ci aiuteranno Ehi Questa sì che è una riunione Sì E adesso ragazze Andremo avanti C'è del lavoro da fare Cosa sai di Kang? Quello che serve È un tipo davvero cattivo E La sua complice Ravonna Renslayer Quando Kang conquistò il suo regno Divenne la sua sposa Dottor Stranger Kang può attaccare Diverse epoche Contemporaneamente? Può essere Servono ulteriori consultazioni Due squadre Una in seguito Quei cavalieri L'altra scopre dove è andato Klo Ragazzi la prima La prima scelta Non ci puedo credere Non ci posso credere E Adesso ragazzi Andremo a scegliere Ma Scrivermi qua sotto Nei commenti Questo ragazzo Era un episodio Veramente Brevissimo Scrivermi qua sotto Nei commenti Dovrei scegliere Questa squadra E andare Dai cavalieri medievali Oppure Questa squadra E andare Da Klo Nel Regno di Wakanda Vi ho detto tutto Scegliete qua sotto Nei commenti Era un video Doveva essere Un video Molto breve Però raga Scegliete E Fateci sapere Questo Tutto Nei commenti Beh Scegliete Scegliete